Prodotti di bellezza sottratti dagli scaffali della farmacia dislocata all'interno dell'ipermercato Iperaldicastione-Andevenno, come con l'utilizzo di una borsa schermata in maniera da eludere i controlli antitaccheggio sistemati all'ingresso del punto vendita. Le manovre evidentemente un poco impacciate di un 38enne originario dell'est Europa, clandestino e senza fissa dimora, non sono però sfuggite agli sguardi degli addetti alla sicurezza, i quali hanno tempestivamente allertato i carabinieri che in pochi istanti hanno fermato l'uomo mentre tentava di salire a bordo della propria auto posteggiata nel parcheggio esterno del centro commerciale. E proprio all'interno della vettura i militari dell'arma hanno rinvenuto un ulteriore carico di prodotti cosmetici, creme, profumi, deodoranti del valore complessivo di 200 euro rubati poco prima in un altro negozio dello stesso centro. I carabinieri hanno immediatamente provveduto alla consegna dell'aria furtiva ai negozianti cui era stata sottratta. Per il 38enne invece è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato. L'uomo ha trascorso la notte scorsa nella camera di sicurezza del comando carabinieri di Sondrio ed oggi è stato sottoposto all'udienza di convalida dell'arresto.